Tenere alta l'attenzione per dare garanzia a tutti i 1.300 addetti ai servizi di Matera, Bari e Potenza della Data Contact dopo il mancato rinnovo della ingente commessa TIM con la conseguente perdita di centinaia di posti in organico e l'impegno richiesto alla politica e alla Regione dal consigliere Castelluccio dopo la nuova manifestazione di protesta a Matera dei circa 400 dipendenti in Data Contact. Quello del core center Telecom, precisa il consigliere, è un servizio importante per l'utenza che tra l'altro paga le stesse prestazioni erogate. Pertanto il confronto tra le parti deve continuare sia per garantire la prosecuzione della commessa e con essa il lavoro delle attuali maestranze materane che in tutti questi anni hanno dato prova di professionalità mettendo il management di Telecom in condizioni di far conoscere in dettaglio il proprio disegno senza ricorrere a sutterfugi e a dilazioni e ricatti. Non è pensabile, sottolinea Castelluccio, che la soluzione di ogni problema sia scaricato interamente sulla Prefettura di Matera che invece va sostenuta in ogni sforzo di confronto con le imprese, i sindacati, dal governo regionale e dai parlamentari lucani.